Un saluto a tutti. Mi chiamo Giuliano Bugani, giornalista indipendente. Ritengo indispensabile un chiarimento da parte del Governo in merito alla legge Lorenzin 119-2017 sull'obbligo vaccinale e l'esclusione dei bambini dalla scuola. Nel luglio 2017 il Movimento 5 Stelle fu l'unico soggetto politico insieme alla Lega Nord a votare contro la legge Lorenzin. A distanza di pochi mesi la posizione del Movimento 5 Stelle al Governo con un incarico proprio al Ministero della Salute non è chiara e contraria come nel luglio del 2017. Esponenti nazionali del Movimento 5 Stelle rassicurano che la legge Lorenzin 119-2017 verrà cancellata mentre altri esponenti nazionali invitano alla prudenza e addirittura ipotizzano che la modifica alla legge Lorenzin 119 non riguarderà l'esclusione e l'obbligo vaccinale. Non vorrei che ci trovassimo davanti al gioco delle correnti, un gioco che apparteneva alla vecchia politica dove si ludevano i cittadini di un cambiamento mentre tutto era già deciso al vertice. Il Movimento 5 Stelle deve dire con chiarezza cosa farà in merito alla legge Lorenzin 119-17, in merito all'obbligo vaccinale e in merito all'esclusione dei bambini dalla scuola. Solo un immediato chiarimento dirà se questo Governo, formato anche dal Movimento 5 Stelle, è contro il sistema o se parte di esso. Una condizione indispensabile poiché nel 2019 ci saranno le elezioni regionali. Solo questa si chiama democrazia.